Siamo signore per le varie persone che sono venute, vediamo qui all'esterno ci sono un po' di persone che stanno facendo le telefonate, c'è Tony Massaruti, c'è anche Massimo, c'è anche qui all'esterno una signora ucraina che anche lei sta facendo le telefonate, poi abbiamo i nostri bravi amici qui, i nostri bravi fratelli brasiliani che sono venuti, noi vi ringraziamo Otto e Arnaldo, benissimo, abbiamo il nostro Francuccio, abbiamo poi là dietro Liberty con le sue due amiche che sono venute a trovarla, ringraziamo, abbiamo Pilar qua, abbiamo Alessandro, abbiamo i nostri bravi amici, abbiamo anche qua, questa brava donna che ci viene a trovare, Maria Cassa, da tanto tempo e abbiamo la nostra super Masterchef, la nostra Eugenia, o meglio Eugenia in italiano, quindi ringraziamo il Signore per le varie persone che vanno e che vengono, che sono sempre a disposizione, che vogliono dare un aiuto pratico, vogliono servire al prossimo, noi ringraziamo tutti quanti voi e preghiamo che il Signore possa aprire adesso la nostra mente alla conoscenza della sua parola e grazie.